L'ordinanza firmata dal presidente Acquaroli stabilisce la didattica a distanza al 100% anche per le scuole medie in zona arancione. Visto l'andamento della curva epidemiologica ha commentato Monica Dalmonte, dirigente dell'istituto comprensivo Nuti di Fano, ci aspettavamo un simile provvedimento e ci siamo fatti trovare pronti. Ci stiamo organizzando per garantire a tutti quanti la didattica a distanza, aggiunto poi Domenico Somma, direttore amministrativo dell'istituto, rendendo disponibili dei computer scolastici acquistati durante il lockdown dello scorso anno per i ragazzi che ne hanno bisogno. Al momento sono sette le persone che hanno fatto domanda. Noi speravamo di non arrivare a questo punto perché riteniamo che la scuola in presenza sia la vera scuola. Dall'inizio dell'anno abbiamo iniziato già a preparare gli studenti a questo. Abbiamo fatto proprio delle lezioni adatte per far sì che i ragazzini, una volta che si trovassero a casa di fronte a un computer, sapessero come entrare nell'ambiente virtuale in cui sarebbero poi andati a svolgere la didattica a distanza. Abbiamo un'organizzazione proprio anche di come fare la didattica a distanza. Questi provvedimenti che arrivano anche un po' all'ultimo momento, che magari sono circoscritti nel tempo e uno dice ma come io faccio appena in tempo a organizzarmi e poi devo organizzarmi in un altro modo. Però se la finalità è di portare e riportare il prima possibile i studenti in classe, benvenga assolutamente. Sarà un po' di fatica ma lo facciamo volentieri perché averli a scuola è tutta un'altra cosa. Per le scuole superiori invece la didattica a distanza al 100% era già stata attivata dalla scorsa settimana. Per noi, ha spiegato la dirigente del Polo 3, Eleonora Augello, l'ordinanza significa un prolungamento della DAD. Abbiamo adattato la finalità degli obiettivi, facendo emergere ancora di più quelli legati al sostegno ai ragazzi, per non lasciarli soli in questo momento buio. Uno strumento che ci ha consentito di affrontare la pandemia, ma non per questo è sicuramente una situazione ideale per i ragazzi e non solo dal punto di vista didattico. Quello che mi preoccupa di più chiaramente invece è la sfera relazionale che i ragazzi perdono e che con il passare del tempo comincia a farsi sentire sempre più pesante con situazioni di disagio. È tutto più difficile, è tutto più amplificato, ma a maggior ragione non ci possiamo arrendere adesso. Dobbiamo essere più forti di prima e cercare di stare vicino quanto più possibile ai ragazzi e alle loro famiglie. È chiaro che tutti quanti, i ragazzi in primo luogo, hanno proprio desiderio di ritornare a scuola che si registra in maniera importante e forte mai come in questo periodo. Io penso che la voglia di scuola dei ragazzi non sia stata mai forte nella storia proprio della scuola come in questo momento.